Filippo Costantini, Associazione Mente Glocale, che organizza la Sagra del Cinema per la quarta volta a Castiglion Fiorentino, con una formula nuova, quella di quest'estate. Sì, in parte è nuova perché abbiamo per la prima volta uno spettacolo teatrale di Alessandro Bardani e Francesco Montanari, e poi perché abbiamo cercato di curare ancora di più l'aspetto allestitivo e rendere ancora più attraente, da un punto di vista cinematografico, il castro, che era già bello di suo ovviamente. Quindi per questo possiamo dire che in questa quarta edizione abbiamo cercato di innovarci, mantenendo però fede a quelle che erano le caratteristiche della Sagra del Cinema, cioè associare incontri con grandi ospiti, grandi film e gastronomia di qualità e a tema con gli ospiti. Una formula che è quella consolidata con l'incontro con gli autori, con l'aperitivo e quindi... ma poi c'è anche la musica, ci sono intermezzi anche su questo fronte, novità? Sì, avremo due serate con Omero & Friends, che è una delle realtà più interessanti dal punto di vista musicale e dell'intrattenimento del territorio aretino, quindi cerchiamo di realizzare e di proporre una festa d'estate a 360 gradi, che nell'insegna della qualità tra musica, cinema, gastronomia e incontri con grandi personalità, riesca così ad essere un'attrattiva per tutto il territorio aretino. Grazie.